Innoview, altro sponsor degli O2 Days Italia 2024, facciamo un applauso perché è un'altra new entry di questo format. Abbiamo anche la musica che ti dà la carica, come vedi? Bene, velocizzare il training, l'assistenza clienti con Chatbot CRM. E' colpa mia il refuso, mi assumo la responsabilità del punto interrogativo. Buon lavoro. Grazie. Buonasera a tutti, sono Domenico Montingelli e sono consulente project manager che collabora con Innoview e ne approfitto per ringraziare pubblicamente Innoview per questa bellissima opportunità. All'interno di questa iniziativa progettuale abbiamo provato a guardare un po' ad analizzare il panorama offerto dall'intelligenza artificiale generativa e a cercare degli scenari di integrazione all'interno dell'ecosistema O2. Due parole sull'intelligenza artificiale generativa. L'intelligenza artificiale ormai è davvero popolare grazie sia ai progressi ottenuti in campo tecnologico sia alla sua diffusione. Basti pensare ad esempio che gli utenti adesso iscritti su ChatCPT sono quasi due miliardi, iniziano a diventare una bella cifra. L'AI generativa è un tipo di intelligenza artificiale che oltre ad effettuare calcoli complessi riesce a generare del contenuto che può essere testo, immagini, audio e video e per generare questo contenuto si basa su quelli che sono i large language model che sono dei modelli che vengono addestrati con una grandissima quantità di dati e uno dei prodotti che adesso va per la maggiore è ChatCPT che utilizza gli LLM ed è un prodotto di OpenAI che ha capito verso la fine dello scorso anno che i modelli possono essere perfezionati grazie all'utilizzo di dati di contesto, tanto è che verso la fine dello scorso anno sono nati i GPTs e gli assistenti API che permettono di contestualizzare l'intelligenza artificiale fornendo loro una serie di istruzioni specifiche. Guardando quindi al panorama dell'AI generativa e a come tutto questo si incastrasse all'interno dell'ecosistema UDU abbiamo cercato di capire se esistesse un modulo che permettesse di fattorizzare i benefici dell'intelligenza generativa e quindi abbiamo scelto di utilizzare il modulo Discuss che è un modulo che permette già di effettuare un'interazione via Chat con un utente ed è un modulo che si può condividere all'interno degli altri e quindi permettere di interagire con esso e al contempo operare all'interno di altri contesti. Scelta quindi la posizione all'interno della quale inserire l'AI generativa ci siamo affidati ad OpenAI perché grazie agli assistenti API siamo riusciti con una discreta facilità a collegare il concetto di chatbot che è presente all'interno di UDU al concetto di assistente API. Il secondo step di questa iniziativa progettuale ha previsto la scelta di un target implementativo quindi una volta definito in che modo utilizzare l'intelligenza artificiale generativa quindi il modulo Discuss abbiamo scelto uno dei moduli di UDU e come obiettivo abbiamo scelto quello di utilizzare Chat CPT per migliorare l'interazione del cliente all'interno del modulo stesso. Quindi abbiamo creato un assistente API che abbiamo addestrato con i dati del modulo CRM in modo che rispondesse in maniera puntuale a delle domande sull'utilizzo del modulo stesso. Le domande sono domande generiche su a cosa serve il modulo CRM, domande sul glossario quale può essere la differenza tra un'opportunità a un contatto? La domanda procedurale come si fa ad inviare una mail ad un contatto? Domanda relativa alla creazione di un automatismo, come faccio a creare automaticamente dei lead a partire dalle mail ricevute? Oppure come arriva un preventivo? Il video era dopo la prossima slide, però manca una slide? Non ho ancora fatto il bonifico, quanti erano? 3.500? Esatto, esatto, grande. Sì esatto, l'integrazione che poi è una slide molto importante perché insomma descrive i due concetti chiave su cui abbiamo basato l'integrazione. Il primo è appunto integrazione seamless, abbiamo integrato direttamente le SDK ufficiali di OpenAI all'interno dell'ecosistema UDU. Il secondo fattore chiave è stato la facilità di configurazione, quello che abbiamo fatto è stato estendere il modulo DISCUS per fare in modo che la configurazione, quindi l'associazione dell'assistente potesse essere fatta direttamente all'interno del modulo. Quindi di seguito vediamo come abbiamo sperimentato, in che modo poi a quelle domande che abbiamo visto nella slide precedente ha risposto il CRM bot. Nel video ho provato a simulare l'utente medio che scrive piano piano e quindi fa una serie di domande al bot. La prima era appunto di contesto, a cosa serve il modulo CRM? Il chatbot risponde appunto con l'utilizzo del modulo CRM e in più offre anche una panoramica di quelle che sono le funzionalità del CRM all'interno di UDU, quindi gestione dei contatti, tracciamento delle opportunità, automazione delle vendite, analisi e reporting, integrazione con altre applicazioni. La seconda domanda riguardava il glossario, se ricordate, quindi la differenza tra due termini che vengono utilizzati all'interno del contesto CRM, quindi la differenza tra opportunità e contatti. Come vedete il tempo di interazione è reale, nel senso che questo è il tempo che trascorre tra quando io faccio la domanda, il tempo in cui mi collego al chatbot e quindi il chatbot mi risponde. Nella differenza tra opportunità e contatti effettivamente è risposto in maniera corretta, definendo i contatti come entità che rappresentano persone e aziende con cui l'organizzazione ha una relazione e come opportunità ha giustamente indicato potenziale business o una potenziale vendita. La terza domanda riguarda una procedura, quindi come invio una mail ad un contatto e anche in questo caso ha dettagliato tutti gli step applicativi che è necessario effettuare all'interno del modulo per poter inviare la mail. In più ha aggiunto anche informazioni relative al tracciamento delle mail per verificare se sono state aperte o meno facilitando il follow up. Questo è uno dei vantaggi dell'intelligenza generativa. L'altra riguarda la procedura per effettuare la creazione automatica dei lead a partire dalle mail ricevute ed anche in questo caso vedremo che verrà fornita una procedura dettagliata da parte del chatbot di come generare automaticamente i lead. Anche in questo caso descrive la configurazione della casella di mail, indica anche il percorso a cui accedere ed offre anche attività relative a monitoraggio e descrizioni relative ad attività di monitoraggio e ottimizzazione. L'ultima domanda è il percorso necessario per arrivare a un preventivo all'interno del modulo e anche in questo caso il chatbot risponderà correttamente con una lista di azioni da eseguire per arrivare al preventivo. Quindi accesso all'opportunità di vendita, verificare serie di dettagli dell'opportunità, creare un preventivo eccetera. Di seguito vediamo qual è il vantaggio dell'utilizzare il modulo discuss che era quello di cui parlavo prima. Il fatto che all'interno di un altro modulo che è appunto il modulo CRM posso continuare ad utilizzare il thread della chat per poter apprezzare in tempo reale delle informazioni che il chatbot stesso mi offre. In questo caso l'ho anche ringraziato per la risposta perché qualcuno dice che bisogna essere gentili con le intelligenze artificiali perché poi un giorno se ne ricorderanno. Ok, quali sono quindi i vantaggi relativi all'implementazione del chatbot? Chiaramente in questo caso il vantaggio del chatbot è un po' andare a pescare il granellino di sabbia all'interno di quella che è la spiaggia, di tutta la documentazione funzionale del modulo. Il momento in cui il cliente interagisce con la piattaforma ha bisogno di un'informazione puntuale e la vuole nel minor tempo possibile, non è disposto a consultare magari tutta la documentazione in certi frangenti perché ha fretta. Il supporto è personalizzato proprio perché l'assistente si basa su dati di contesto e quindi fornisce risposte carotate sulla base del modulo CRM. È possibile attraverso OpenAI creare informazione continua all'interno del thread, quindi l'intelligenza artificiale apprende le informazioni che vengono scambiate all'interno del thread per fornire risposte sempre più accurate. E in ultimo il concetto relativo all'astrazione. In questo use case ci siamo concentrati sul creare un assistente che faccia un po' da guida in linea rispetto all'utilizzo di un modulo, un po' come accadeva tanti anni fa con Office dove c'era quella graffetta fastidiosa che compariva all'improvviso e faceva una serie di domande. In questo caso il chatbot così come integrato permette potenzialmente di integrarsi all'interno di tutti i siti web che vengono realizzati con tecnologia Udo. Quindi questa è una delle potenziali applicazioni, le abbiamo individuate tutta un'altra serie e in effetti come prossimi passi abbiamo stabilito innanzitutto il consolidamento di quello che è l'applicazione delle guide online. Quindi estenderemo gli assistenti API agli altri moduli Udo maggiormente utilizzati per poter fornire supporto in linea. In secondo luogo l'integrazione con OpenAI è stata dettata dal fatto che il progetto è nato abbastanza di recente. Ad inizio anno abbiamo dato il via ai lavori. Ci è sembrato che OpenAI fosse la tecnologia con cui più facilmente ci si potesse integrare. Nel frattempo però molte altre tecnologie si sono evolute, ci sono competitor di OpenAI. Notizia di qualche giorno fa è che ad esempio Anthropic è sbarcata in Europa e quindi è possibile utilizzare adesso Cloud nell'ambiente europeo. C'è anche Meta con Lama e quindi stiamo cercando di creare un'interfaccia che permetta poi l'integrazione non solo con le SDK di OpenAI ma di qualsiasi altra azienda che fornisce un'intelligenza artificiale generativa. L'ultimo punto è quello focale di cui hanno parlato anche altre aziende nei talk precedenti ed è il famoso nodo dell'integrazione con il database UDU. Noi abbiamo utilizzato le funzionalità degli assistenti API. Quello che stiamo provando a fare adesso è cercare un modo per poter prendere le informazioni di contesto che ci sono all'interno dell'istanza di UDU e iniettarle all'interno dell'assistente API. Questa cosa qui stiamo cercando di farla muovere in due direzioni. La prima è cercare di internalizzare il processo di addestramento dell'assistente. OpenAI mette a disposizione una serie di API che permettono di creare gli assistenti, caricare i file learning e scrivere il prompt che poi viene utilizzato per contestualizzare l'intelligenza artificiale. Facendo questa cosa all'interno di UDU probabilmente riusciremmo a guidare la creazione del prompt facendo in modo che vengano iniettati dei dati che sono inerenti al contesto in cui viene utilizzato. In secondo luogo una delle informazioni importanti che avviene durante l'interazione sono i dati relativi all'utente. C'è un utente logato che si sta collegando e sta creando un'interazione con il chatbot. In quel momento io posso utilizzare l'identificativo del cliente, i dati di sessione per poter andare a ritroso e ottenere tutta una serie di informazioni che inietto all'interno del thread per fare in modo che l'intelligenza artificiale possa rispondere su dati specifici dell'utente che si sta logando. Questo è un po' quello che analizzeremo nei prossimi mesi. Ci siamo al momento limitati a gestire questo use case perché ci sembrava quello di più semplice implementazione e quello che ci ha permesso di apprezzare poi i vantaggi dell'intelligenza artificiale generativa. Adesso proveremo ad alzare un po' l'asticella e a spingerci un po' più avanti. Bene, ottimo intervento, grazie. Ci sono domande? Eccoci qua. Questa è la seconda, giusto? Te ne resta un'altra? Si scherza un po', eh? Buonasera e complimenti per la presentazione. Una domanda, mi viene in mente una cosa. Siccome mi immagino che questo tipo di soluzioni si sposino bene anche con installazioni dove ci sono molte utenze, quindi non penso, forse anche per piccole aziende con 5-6 utenti potrebbe andare bene, ma immagino si sposi bene quando andiamo su 100, 200, 300 utenze e quindi reparti dove anche è più difficile arrivare in maniera puntuale e queste soluzioni possono essere utili. Avete pensato di contestualizzare, dicevi prima proprio in chiusura, contestualizzare sull'utente le risposte date dal chatbot? Anche magari sulla base dei permessi? Cioè io posso chiedere come faccio a creare questa fattura? E il chatbot dice, teoricamente si farebbe così, ma tu non lo puoi creare. Assolutamente sì. Lo spunto è interessante ed è proprio, cioè, argomento di discussione di queste settimane. Cioè il fatto di partire dai dati di sessione dell'utente, interrogare il database e associare. Allora, la parte di privilegi è un ottimo spunto perché non eravamo arrivati a questo livello di dettaglio. Però è interessante, cioè, diciamo, oltre a dire all'utente che cosa fare, dirgli anche in anticipo se può farlo o meno. Quindi assolutamente è uno spunto interessante e lo teniamo in considerazione. Grazie. Domanda da quella... ecco, vedi? Lo fanno apposta, Marcello? No, dai! Lo fanno apposta. Lui, sono sicuro, lo ha fatto apposta. Grazie a te, grazie anche a Marcello, il valletto. No, una domanda, per quanto riguarda l'integrazione con il database o tu? Visto che utilizzate OpenAI, come state indirizzando la questione della privacy GDPR nel momento in cui i vostri dati escono e potenzialmente vanno fuori Europa o comunque in contesti non controllati? È un'ottima domanda. Infatti, cioè, il motivo per cui abbiamo scelto il modulo CRM è la parte relativa al learning, è proprio questa. Perché con il learning non si corre il rischio di utilizzare dati personali perché stiamo parlando della knowledge base di UDU. Quello che stiamo facendo in parallelo è proprio un'analisi con il reparto compliance per capire quali sono gli effetti di ciò che stai indicando tu. Cioè, il fatto che più che una fuga di dati, diciamo che è importante da un punto di vista anche contrattuale essere chiari e dire che i dati vadano in una certa direzione. Ci sono una serie di linee guida anche da un punto di vista etico. Per cui è necessario, ad esempio, addestrare gli assistenti per fare in modo che le risposte siano di un certo tipo. Però è un argomento oggetto di discussione al lato compliance. Io non faccio parte di un DPO, cioè, non sono argomenti illegali, proprio, cioè, siamo due cose totalmente diverse. Però assolutamente è un punto che stiamo analizzando con attenzione. Abbiamo raccolto degli ottimi spunti per migliorare ulteriormente il prodotto. Qualche altra domanda? Ok, perfetto. Io direi che a questo punto possiamo fare un forte applauso a Domenico. Grazie per il tuo prezioso intervento. Grazie.